Ciao a tutti buongiorno e oggi vi voglio dire come giocare alle carte pokemon Iniziamo subito Come potete vedere questo è uno starmi A 190 di vita e questo l'abbiamo capito Però potrebbe sembrare un pokemon molto forte Però oggi per vedere quanto per sconfiggerlo dobbiamo vedere se c'ha una debolezza Vediamo un po' la debolezza Ok starmi ha praticamente la debolezza di pokemon elettro per 2 Quindi dato che ha una debolezza di 2 pokemon elettrici Il nemico contro 2 pokemon elettrici non potrà fare a meno che il suo pokemon sia battuto Quindi io metto Pikachu e Raiku Che sono 2 pokemon elettrici E dato che lui ha la debolezza di 2 possiamo batterlo Comunque dobbiamo fare anche attenzione che i nostri pokemon abbiano un attacco Che riesca a abbattere il numero di vita che c'ha questo pokemon E anche vedere se i tuoi pokemon che erano la loro debolezza Abbiano degli attacchi che sono minori della loro vita E questo è tutto dagli aiuti di Gabri Ciao e arrivederci ad un prossimo video Mi saluta pure i miei 2 Pikachu Che sono la carta Pikachu E anche lui Pikachu Ciao